ogni vita ha bisogno di una regola che non deve essere vissuta come una dittatura e uno strumento per imparare ad amare la legge quindi non è contraria all'amore ma è uno strumento per crescere nell'arte di amare a noi l'opportunità di coglierla nella sua potenzialità di crescita e di vita come si può conseguire la pienezza della vita nel compimento della legge di dio ce lo dice gesù nel vangelo di oggi portarla a compimento mettendo in atto i precetti con amore preghiamo oggi e chiediamo a dio la grazia di saper riconoscere l'utilità della legge e di scegliere sempre l'amore in tutto ciò che facciamo